Ecco, stiamo già riprendendo, caro Fabio, cerca di fare un'egregia figura per il pubblico che vedrà il tuo video, vai! Ho trovato lo stile, la classe e la legge direzza, dei movimenti del giovane Fabio. Dentro della racchetta, ragazzi, questa è una tecnica ormai in discusso, però molto di classe. Mitch, vai! Mitch, è il tuo turno. Eh, mi vergogno, io non ho detto... Mitch, non vedo... Un movimento, però è il suo di Fabio, eh? Ecco, vacanze anni 90.